... sempre di più, anche un look perfetto e impeccabile anche durante il momento della beach, della pescina e del mare, si mi fanno segno che bisogna velocizzare è il più grande negozio specializzato di beachwear che vi possiate mai immaginare, 360 gradi di un viaggio dentro il gusto della moda, signori e signori, la casa del costume! Grazie! 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 Kazatel costume! signori e soprattutto signori avete visto anche che scarpe eh? li avete viste? voglio sentire un sì ecco perché qua ci brillano gli occhi con delle scarpe così da favola con degli bikini dei trichini anzi avete potuto ammirare scusa possiamo far vedere questo trichini meraviglioso? eh care facciamo un applauso ancora la casa dei costume per essere icone da spiaggia il meglio della moda mare cargata estate 2012 eccola qua la splendida insomma le scarpe signori e signori una parola sola Lori Blue ci pensi tu basta per la mattina, per la sera per brillare insomma per amici anche che adorano le scarpe per chi invece come noi donne che non possiamo farne a meno un momento molto importante questo